C'è uno qua? C'è uno qua? Scusate, vabbò, vai in due, chiamate pure gli altri, dai, e vai. Oh, ma quanto cazzo vanno veloci questi? Puglioni, eh? Ma come cazzo? Cioè, guarda, ci siamo a sparare in 20.000. Oh, ci sono, non ci sono! E' una ragazza qua Conde sta? Se n'è andato E non ritorna più Mi riuscite a curare? No, no, è one shot, è one shot Dai Qui c'è niente Ok, pa Ok, cut, so we cut Ok, we cut to you Oh, this is blue No, 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 no Ok, cut, so we cut Sì Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.